... Presentata questa mattina presso l'ente fiera di Basilicata, l'iniziativa promossa dal Circolo Lucano Universitario, Università e Lavoro, un appuntamento che aspira ad unire il mondo scientifico, professionale e lavorativo in tre giornate, articolate tra convegni ed aree espositive. Cerca di far sì che ci sia un'interazione tra il territorio, le istituzioni e le aziende per migliorare la collocazione dei giovani sul mondo del lavoro. Venexpo nasce da una curiosità. Venexpo nasce da una curiosità. Venexpo nasce da un